Buongiorno, benvenuti a questa segna stampa di oggi due dicembre, vediamo i temi fondamentali della giornata e beh intanto c'è un eh pezzo vabbè insomma lasciamo perdere ve lo ve lo tengo per dopo perché c'è tutta l'epopea di Veltroni oggi sui giornali, beh un pezzo di caruso sul foglio da pisciarsi dalle risate, anzi stupendo. Natale, tensione sui divieti, cioè stanno litigando all'interno di questo governo per capire che quali libertà lasciarci o toglierci. E' una cosa paradossale, surreale, bisogna veramente pensare di vivere in un altro mondo nel senso che oggi il governo si sta dividendo. Devo dire che mi sembra che oggi il fondo di Giuliano Ferrara sul ehm fa sul foglio, perdonatemi l'apsus froidiano sul foglio, racconta del corrispondente non so di quale giornale straniero che si chiede come è possibile che quelle della sera siano settimane che si interroga su eh storie e che ancora non sono diventate fatte, cioè si chiudono, non si chiudono, si aprono, messe, non messe, ancora non c'è una notizia eppure sono settimane che diamo come fatti quello che potrebbe avvenire in Italia ma in realtà ancora non c'è questo famoso DPCM che ci spiegherà come chiuderci. Ma nel frattempo i giornali forse giustamente danno conto del fatto che all'interno del governo si litighi eh rispetto a che cosa chiudere e come chiudere. Insomma adesso sembra leggere il messaggero, leggere Repubblica, ma non il Corriere della Sera, mi sembra di aver capito che i ristoranti il venticinque e il ventisei a colazione potranno essere aperti. Uno si chiedeva per quali dannato motivo abbiamo secondo loro fatto tutto questo casino mh chiusi e zone rosse eccetera per poter salvare Natale e poi a Natale non si potesse andare a mangiare al ristorante. Secondo eh però la logica che vi ricordo essere la logica predominante di questo paese dei nostri commentatori che continuano a commentare ehm piazzati la bella vista del consumismo eh vicini alle pubblicità del J'adore beh insomma mentre i nostri commentatori dicono che schifo il consumismo e vengono pagati da J'adore beh questo è il paese in cui ancora non si riesce a capire che cosa succederà nelle prossime settimane se saranno aperti gli alberghi quali saranno aperti chi potrà andare nelle seconde case e e poi c'è un dettaglio molto interessante oggi sui giornali che fanno capire quanti sono gli anziani. Vedete non è un dettaglio eh insignificante perché in Italia ci sono sette milioni di persone l'avreste mai detto sopra i settantacinque anni un paese per vecchi ma il problema è che di questi tre milioni circa vivono da soli e e quindi l'idea che non ci si possa spostare da un comune all'altro da una regione all'altro per andare a cercare i propri genitori papà mamme e nonni e nonne insomma in un paese normale che non è una dittatura cubana beh uno insomma eh si potrebbe potrebbe porre il problema ma santo Dio ma a Natale noi non ci possiamo spostare ma certo c'è l'emergenza sanitaria il consumismo fa schifo e nessuno di noi si può immaginare di pensare a una pazzia e solo pensare alle sciate questo è quello che è diciamo il giornale unico del virus che continua a dire ma intanto il governo eh un pochino combatte con la realtà perché mentre i giornalisti eh nelle loro redazioni vi vi scrivono queste robe qua e vi consigliano di leggere i libri di Walter Veltroni beh poi ci sono le persone normali che i libri di Walter Veltroni non li leggono e che ehm nella vita non li leggono come non leggono i libri di nessuno per carità e nella vita sanno che c'hanno il vecchio papà che sta in un'altra città sanno che per loro la vacanza è vita sanno che per loro uscire per fare un po' di shopping vivendo non nelle case da 200 metri quadri ma un po' più piccoline è anche un momento di libertà ma queste cose evidentemente al nostro giornalista unico del virus non è del tutto chiaro Cassese fa un bellissimo fondo come sempre Cassese oggi sulla ehm Corriere della Sera devo dire che è di una lucidà incredibile professore non di eh certo della mia cultura politica ma oggi riesce a dire beh insomma eh in realtà abbiamo in una prima fase sbagliato dando troppo potere alle regioni non troppo potere ma facendo e deresponsabilizzando il ruolo centrale dello Stato che è ovviamente quello di eh della profilassi che non può che essere nazionale non è che ci può essere una regione che fa o non fa il vaccino ad esempio oggi la profilassi deve essere nazionale e e noi l'abbiamo un po' diciamo eh abdicato alle regioni delle regioni per i loro personalismi poi ci hanno preso gusto e adesso cerchiamo di trovare come soluzione un terzo errore dice Cassese in questo suo fondo molto condivisibile oggi su Corriere da Sera e il terzo errore sapete quale sarebbe molto banalmente il fatto che vogliamo eh rinazionalizzare la sanità e devo dire che Cassese come sempre è lucidissimo e il secondo fatto di giornata è che Berlusconi cambia idea eh sul mess e devo dire la verità cambia idea e qua ci sono interpretazioni di tipo diverso quelle un po' più ridulcorate del giornale che è di famiglia quelle un po' più critiche eh degli altri giornali e poi su tutte e il senso che Berlusconi abbia cambiato idea che sia diventato un pericolo lo trovate dall'agenzia Stefani dal fatto il quotidiano della eh Movimento Cinque Stelle ma soprattutto di Conte dedica due pagine oggi alle olgettine beh quando il fatto dedica due pagine alle olgettine è del tutto evidente che vogliono far rosolare o comunque far sentire il sapore della calibro nove nella bocca qua di Berlusconi stai attento a non far troppo casino perché ci sono pur sempre le olgettine non ci credete beh se non ci credete leggetevi il libro che ho appena iniziato a sfogliare di Scopelliti condannato unico caso al mondo penso in Italia per falso ideologico ed in carcere l'ex ehm presidente della regione Calabria quindi insomma che la magistratura e che certi poteri alla fine ti possono fare un mazzo così in questo paese non c'è bisogno forse di legge Scopelliti ma il caso Scopelliti proprio oggi che si parla di Calabria a me mi ha molto colpito poi certo il libro è introdotto da ehm Gianfranco Fini e allora a quel punto è dovuto veramente superare come vi posso dire un un momento di disgusto verso quel libro però insomma non si può chiedere tutto a Scopelliti che è pur sempre Scopelliti e ma Fini non la doveva fare comunque Veltroni oggi è è fantastico perché il Corriere della Sera è diventato una specie di oltre che di giornale unico del virus è diventato uno straordinario giornale di promozione di Veltroni sarà anche perché in uno straordinario pezzo di Caruso oggi sul foglio che parla del Veltronismo sarà anche io non lo sapevo ma per mia ignoranza perché francamente non seguo la carriera dei vari giornalisti che il l'attuale direttore del Corriere della Sera che si chiama Luciano Fontana Garbato è straordinario eh giornalista era il capo redattore di ehm dell'unità quando direttore dell'unità chi era Veltroni e chi fa la prefazione del libro di Veltroni oggi lo fa eh Fontana che però nel frattempo non è più il capo redattore di Veltroni è diventato il direttore del Corriere della Sera il principale giornale italiano ha come direttore l'ex capo redattore dell'unità che guarda caso recensisce anzi prefà il libro di Veltroni ma non prima di aver dato a Veltroni si racconta Caruso questo gigantesco spazio di eh direi piuttosto perdibile di ehm come si chiama di viaggio nelle religioni ieri era il caso del rabbino prima delle monache poi del cardinale che dice Caruso vorrebbe scimmiottare più bene secondo me invece vorrebbe scimmiottare soltanto questa specie di delirio eh semile de di scalfari cioè il punto fondamentale del ventrorismo è che il papa passi da Repubblica al Corriere della Sera ma Caruso fa questo straordinario eh ritratto di Veltroni la Netflix italiana perché devo dire che ormai questo scambio di palle tra recensori recensiti Fontana che fa in prima pagina su Corriere della Sera la recensione di Veltroni Veltroni che fa il giornalista del Corriere della Sera la Ciabatti che che fa la recensione di ehm Gramellini Gramellini che lo fa dall'ottimo Cazzullo Cazzullo che la fa cioè siamo in una specie di gigantesca bolla di recensioni reciproche che ha un solo pari e io lo consiglierei a Caruso che è quello dei premi giornalistici cioè la più grande stupidaggine ipocrita folle del mondo sono i premi giornalistici apro una parentesi e chiudo la parentesi se qualcuno mai volesse venire a lavorare con me io qualcuno ce l'ho che mi manda dei curriculum io cerco di leggerli praticamente tutti vi prego se avete vinto un primo giornalistico non lo scrivete perché chiunque abbia vinto un premio giornalistico per quanto mi riguarda può continuare a lavorare per Veltroni e per il Corriere della Sera detto questo straordinario Caruso è straordinario il Veltronismo a me è anche simpatico Veltroni io anche l'ho anche chiamato recentemente per fargli i complimenti su un pezzo riguardo al proprio sul Corriere della Sera però devo dire che quando tu sgami come dicono a Roma proprio questo sapore di 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 Camarilla beh insomma viva il Caruso comunque Caruso sei stato all'unità? No! E allora rimane lì a pagina quattro del foglio nel frattempo del Bemes forse abbiamo parlato poco perché la giravolta di Berlusconi che dice che voterà contro il MES fa incavolare secondo il vetroscena di Repubblica mezzo partito anzi tre quarti del partito devo dire che voglio vedere Brunetta come si metterà su questa posizione anch'io se parva dicet si parva dicet ho sempre pensato che il MES non fosse una cosa scandalosa se volete sapere che cosa succede scusatemi il MES sono due cose diverse e lo spiega bene Carlo Cottarelli oggi sulla stampa una cosa perché non è che tutti stanno a seguire tutti i pezzi del campionato una cosa è il MES sanitario il salva stati 39 miliardi se il il MES sanitario per rimettere a posto la sanità i 39 miliardi lo spiega bene Cottarelli e l'altro è il salva stati cioè l'attuale MES che è una specie di grande rete di produzione per i paesi europei ai quali l'Italia partecipa e la cui riforma renderà ancora più presente questo comitato tecnico del MES nel giudicare debiti e come posso dire applicazioni da parte di quei paesi che eventualmente lo voressero utilizzare quindi l'Italia ha ovviamente legittivamente e comprensibilmente paura del fatto che questo MES li potrebbero fare un mazzo così e tra l'altro non col ruolo politico ma col ruolo tecnico io questa cosa la capisco perfettamente Cottarelli un po' di meno ma resta il punto fondamentale che ragazzi con un paese come il nostro 180 per cento del debito non pensate che aderire non aderire al MES non ci porti nei prossimi anni a una situazione di restrizioni fiscali sicure garantite mi sembra che forse oggi libero è l'unico che ritorna sulla patrimoniale sulla follia della sinistra che vuole la patrimoniale ci sono un altro paio di notiziole che secondo me vale la pena di raccontare soltanto e Repubblica si ricorda del gran casino sul fincantieri e STX il cantiere francese che avrebbero dovuto comprare prima è stato bloccato dal grande europeista Macron poi si è avuto un accordo per cui l'Italia c'ha un'azione in più in prestito un bel casino che hanno fatto che soltanto la genialità di Bono può fare e nel frattempo quel genio genio della commissaria antitrust europea una specie di lo dico in maniera diciamo educata un no non la posso dire perché anche l'Europa querela non solo alcuni cioè una un pain una pena nella nostra crescita perché l'Europa è talmente fenomenale che riesce a porre una questione antitrust sul fatto che si fonda fincantieri con STX francese quando loro pongono questa questione antitrust ovviamente i francesi non vedono l'ora di far fottere e di far fallire questa operazione e lo scusa è che fincantieri ha fatto un accordo con i cinesi scusa abbastanza plausibile ovviamente perché quando arriva la Cina uno pensa obiettivamente a una dittatura che ci fotte a tutti ma il punto fondamentale è che se non ci fosse faltata l'antitrust a bloccare quest'operazione si sarebbe già fatta dopo diciamo l'accordo con Macron invece l'antitrust europea e dice si viola la concorrenza se fincantieri si unisce ai cantieri francesi ragazzi dove cazzo vivete dove vivete siamo nel punto nel momento di Google di Amazon della fine dei negozi di prossimità delle grandi piattaforme dei cantieri coreani dei cantieri cinesi e voi state qui a pensare che si viola la concorrenza se facciamo con un'operazione di mercato un accordo europeo è una roba che la Vestager che vive nel suo piccolo palazzetto e nella sua follia secondo me burocratica e libresca brussellese non riesce a cogliere fantastico Sallusti se la prende con tutti i giornali che si dimenticano che i Benetton ieri il domani il giornale di Benedetti dice che i Benetton hanno dato 500 mila euro a Zingaretti presidente della regione Lazio per comprare i frigoriferi per il vaccino beh dice toc toc Sallusti e se questi 500 mila euro dei Benetton fossero andati a qualcun altro che avrebbe detto la grande stampa i tremendi Benetton che una settimana fa danno 500 mila euro a qualcuno cosa sarebbe successo fantastico altra questione l'unicredit e qui c'è ragione secondo me Camilla Conti e Antonelli sul libero perché ieri ha perso l'altro 8 per cento in borsa Mustier il suo antipatico e freddo come l'ha definito Maurizio Belpietro amministratore delegato è un uomo di mercato vorrebbe fare con ricomprarsi le azioni fare dividendi fare operazioni straordinarie non sta simpatico ai sindacati perché vuole eh atteggiamenti molto duri nei confronti del personale cioè un uomo di mercato e certamente non è esattamente la persona migliore per fare eh l'operazione con il monte dei Paschi di Siena che è quello che vuole fare il governo è inutile che ci prendiamo per i fondelli e la battuta che gira e danno ragione la Conti e Antonelli è invece di predizzare il monte dei Paschi di Siena quello che il governo vuol fare è nazionalizzare il eh l'unicredit perché che se fondessero le due società leggo oggi sul giornale beh insomma succederebbe che lo Stato italiano avrebbe l'undici per cento dell'unicredit allora se questa è la prospettiva cioè di cassa depositi e prestiti che controlla tutto di fincantieri pubblica che non fa gli accordi in Europa di unicredit che diventa pubblica di Arcuri che controlla dall'Ilva a le vostre mutande beh insomma forse questo è il panorama di un paese che vorrà crescere straorditario riguardo a appunto ad Arcuri e alle mascherine la eh notizia che arriva dalla verità Amadori grandissimo per cui ci sarebbe un'indagine della procura di Roma e il magistrato che se ne occuperebbe è uno di quelli tosti e che non si fa intimidire che si chiama Paolo Iero e neanch'io se posso permettermi vi faccio intimidire dal fatto che Arcuri eh ci ha querelato perché non era contento del fatto che noi si raccontasse che su un miliardo e duecentomila scusatemi ha fatto un atto di citazione non vuole soldi non è in questo eh non non è eh una una causa pedale ma soltanto civile perché noi abbiamo detto che un miliardo e duecentomila e un appalto di un miliardo e duecentomila masterine ci siamo semplicemente permessi di andare a vedere che chi si era preso i settanta milioni di intermediazione stupenda e concludo su questo la storia del revenge porno che la cosa più orrenda che ci sia cioè la vendetta attraverso immagini private che è diventata la grande cancro della moderna socialità per cui l'uomo che manda le le foto intime della donna come se la donna non facesse mai la stessa cosa con l'uomo perché qui solo gli uomini sono colpevoli ovviamente ma la cosa stupenda è che noi che stiamo qui a pontificare tutti sul revenge porno quanto indulgiamo sui giornali oggi per l'orgia gay fatto dal parlamentare di Orban tu sei di Orban sei di destra sei cattivo non vuoi l'Europa e sei anche ipocrita come spesso avviene nel senso che dici che vuoi le leggi sulla famiglia poi fai l'orgia gay in un appartamento a Bruxelles ma tutti i giornali la tua fotona l'orgia gay questo come si chiama questo si chiama revenge porno per signorine nel senso se possiamo non essere sessisti nel definire così che tutti i dettagli di quello che fa questo parlamentare nella sua intimità vengono spiattellati e la scusa è che non c'era il distanziamento cioè il problema non è che lui si fosse visto con venti persone in un appartamento a trombare tra tutti i maschi in a Bruxelles non è questo ma il problema è che non c'era il distanziamento tra questi maschietti che facevano il revenge porno anzi non facevano il revenge porno facevano un'orgetta è possibile fare le orge? Sì è possibile fare le tre uomini? Sì è possibile che ci sia un ero parlamentare? Sì cos'è che non andava? Che non c'era il distanziamento covid e allora per questa grande e piccola norma tutti i giornali possono sputtanare il povero parlamentare povero sì ma per dire insomma è la vita e se stai dalla parte sbagliata non c'è nulla da fare non ti si perdona neanche il porno se fosse stata una signora in un progressista in un in un diciamo un liaison con qualche sua amica ci sarebbero state le urla dicendo non vedo perché si debba intaccare nome la dignità di una persona che privatamente fa quello che gli pare pensate anche voi come vi pare io vado a farmi un revenge veltroni mi leggo gli ultimi suoi dieci libri ciao